e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite gli ultimi giorni dai l'ultimo sforzo prima della season 2 del capitolo 2 è stata un'odissea arrivarci cinque lunghi mesi senza significativi update nonostante tutto lo sconvolgimento della mappa non ci sono veicoli non ci sono nuove armi non ci sono nuove location però qualcosa sembrerebbe smuoversi all'orizzonte nel video di oggi ragazzi parleremo di una schermata di caricamento che sicuramente farà parte della season 2 diciamo un pochettino scoperta senza volere da un utente vi farò vedere un'immagine molto molto interessante ma anche finalmente la conferma dell'arrivo di questo evento della season 1 che va a portarci proprio appunto alla seconda parte di questo secondo capitolo un evento lunghissimo che durerà ben due settimane questo è quello che viene detto ancora non c'è la conferma ufficiale da parte di epic games ma siamo molto molto fiduciosi e in chiusura forse non lo sapete ma tfew ahimè è stato rapinato e anche bene da chi si è portato via un oggetto lui molto caro vi farò vedere ovviamente anche il suo tweet e le sue immagini prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle 13 30 ma prima è la domandina ve la devo fare ragazzi ve la faccio sempre ci mancherebbe che oggi la saltiamo domandina molto molto personale che fa più o meno così ma secondo te qual è il veicolo che rivolresti immediatamente su fortnite ne abbiamo visti veramente tanti e in questi anni in cui giochiamo a fortnite aeroplani carrile della spesa caddy girosfere cannoni quad motoscafi insomma ce ne sono tantissimi beh io se dovessi rivolerne uno ragazzi vorrei solamente lei la mia girosfera oramai ci sono affezionato mi manca tantissimo non poterla più utilizzare in game e vorrei proprio lei dimmi invece quello che vorresti te qua sotto nei commenti ma quindi ciancia levante e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere molto rapidamente la mappa super dettagliata per chi ancora non avesse completato l'ultimo blocco di sfide che regalano la colorazione viola della skin cameo versus chic vi ricordo dovete distruggere il telescopio la televisione il pallo della luce c'è la posizione dell'ognomo nascosto ci sono anche i funghi quelli speciali che alcuni mi hanno chiesto sono quelli più brillanti che trovate a pantano e i punti di pesca dove poter ottenere appunto i vostri 52 mila punti esperienza mi raccomando non abbiamo così tanti giorni in realtà una ventina completate tutte le sfide per ottenere una bella manata di punti esperienza vi ricordo che ogni 100 livelli si sblocca uno standardo quindi pensateci bene se siete vicini ad raggiungere il livello 200 300 400 dateci uno sforzo in più che sicuramente ce la farete e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi il nostro calendario di febbraio è ricco di cose interessanti come vedete il giorno 6 febbraio ci sarà l'ultimo update di questa season 1 l'update 11.50 e sarà un update interessante perché al suo interno il nuovo motore fisico verrà implementato chi non si ricorda che cosa fosse il nuovo motore fisico che epic games ha deciso di adottare e il motivo anche per cui hanno ritardato la patch praticamente si tratta del nuovo sistema di distruzione dell'ambiente che ci circonda sicuramente abbiamo già capito che i palazzi gli alberi le rocce i veicoli in giro subiranno delle distruzioni man mano che vengono colpiti con i proiettili o con il piccone ci stiamo chiedendo se questa modifica verrà fatta anche alle nostre strutture qualche giorno fa vi avevo fatto vedere un'immagine che ci mostrava una costruzione con un effetto di distruzione mai visto quindi ci aspettiamo davvero tantissimo anche per il ritardo di questa patch e poi dalla patch 11.50 come vedete avremo due settimane dove dovrebbe esserci un evento non si sa assolutamente niente di questo evento che cosa lo faccia che cosa lo crei che cosa ci sarà al suo interno ci saranno delle sfide straordinarie non sappiamo nulla ma ci porterà al giorno 20 febbraio giorno tanto atteso da sempre dico da sempre perché cinque mesi sono veramente tantissimi in una season e speriamo davvero che questa season 2 possa regalarci delle emozioni uniche e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi una piccola curiosità sulle skin nfl siamo oramai giunti al super bowl abbiamo visto che nelle skin nfl uscite ieri nello shop sono stati aggiunti i colori dei 49 sharks ditemi sono pronunciato bene e se non ricordo male di un'altra squadra che partecipa appunto al più grande evento al mondo guardano più persone il super bowl che i mondiali di calcio una piccola curiosità è che non si possono utilizzare su salva al mondo le skin nfl alcune skin si possono invece le troviamo anche su salva ma la curiosità è che queste skin invece non le troviamo e non sappiamo se ne troveremo mai e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ecco qua l'immagine di cui vi parlavo proprio all'inizio del video siamo in un walmart americano i walmart sono quei negozi che vendono un po di tutto e che sono hanno la licenza di vendere i prodotti di epic games più volte abbiamo visto i primi ad esempio l'ultima cosa che viene in mente del walmart sono i codici del piccone minti ma prima ancora abbiamo visto i lama i drop giocattolo venduti sono stati i primi negozi che hanno messo in commercio i prodotti di nerf le pistole le simulazioni del tac e questa volta in questa parte di scaffale come vedete ci sono quattro schermate di caricamento il problema è che la seconda schermata partendo dall'alto quella dove si mostra il lama non esiste su fortnite mentre le altre tre le troviamo e sono parti integranti delle season questa potrebbe essere un piccolo spoiler per una prossima schermata di caricamento in arrivo e si pensa in season 2 una curiosità che sicuramente ci fa sorridere e devo dire che è molto carina quindi spero arrivi il più presto al più presto chiudiamo ragazzi comunque il video di oggi con un'altra piccola nozione molti si aspettano che nel nuovo update venga reinserito il vecchio campo da football è una curiosità non so se chi l'ha visto si parla dei mondiali di calcio quando fu appunto inserito nella vecchia mappa ovviamente se ne parla tanto nei forum ne parlano tanto i leakers è semplicemente una supposizione sarebbe tanta roba anche solo per vedere un piccolo cambiamento prima della season 2 e chiudiamo appunto invece con la rapina di tfew ragazzi pubblica il nostro tfew è sulla sua pagina twitter i just got robbed sono stato rapinato dopo qualche ora ripubblica un altro tweet che dice io sto bene ma le persone che mi hanno rapinato sono scappate con il mio orologio e stiamo parlando ragazzi di un orologio che si aggira intorno ai 40.000 dollari ora io non sono assolutamente un fanatico di orologi né un intenditore però direi che dà fastidio a tutti perdere un orologio che costa quanto due macchine nuove insomma ragazzi se qualcuno avesse visto nei mercatini dell'usato o nei negozi che vendono merce di seconda mano un orologio di queste dimensioni di questa qualità beh sappiate che è quello che hanno rubato al nostro signor tfew dovrà streamare quella mezz'ora in più per riguadagnarli beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news vi ricordo che noi ci vediamo alle 15 in diretta con il primo torneo e domani saremo alle 15 in diretta con la kecco cup vi ringrazio per averlo guardato noi ci vediamo fra poco in live ciao grazie a tutti